Good morning Milano! Buongiorno a tutti e buongiorno a tutti, ben ritrovati! Oggi è venerdì, 29 marzo, sono le 7.07, è un venerdì, finisce la settimana. Thanks God, it's a Friday! Ebbene sì, è venerdì. Siete pronti per il grande weekend di Pasqua? Eccoci qua! Domani sarà il giorno della spesa, lo so già. Domani dovete tutti andare a fare la spesa perché avete Pasqua, i parenti, a Pasquetta, gli amici. Vero che così? Tra parentesi ci sono buone notizie per la grigliatina di Pasquetta. Adesso poi la leggiamo. Però è così, domani è il giorno della spesa, domani si va a fare la spesa. Benissimo, auguri a tutti quelli che andano in un supermercato. Come dite? Ah sì, anch'io. Ah ecco, ci sono anch'io, va bene. Allora diamoci appuntamento così in qualche supermarket, ci troviamo lì e facciamo bisboccia. Facciamo un pre, perché non si fa mai il pre, cioè la Pasqua, la Pasquetta, ma il pre Pasquetta, il pre Pasqua non si fa, no? Quindi potremmo festeggiarlo domani così ci incontriamo tra le corsie di un supermercato. Va bene, dai. Comunque 331-78-535-555. Questo è il nostro numero di WhatsApp, lo sapete, ormai è quasi a memoria. Io non ancora, dopo due anni ancora faccio fatica a ricordarmi la parte centrale di questo numero. Quindi lo ripeto insieme a voi. 331-78-535-555. Tre volte cinque alla fine. E sì, e sì, e sì, in diretta con voi fino alle nove, qui su Crystal Radio. Grazie come sempre di essere in tanti all'ascolto, grazie di passare la mattinata insieme a noi. Noi facciamo il meglio per cercare di farla passare nella migliore delle maniere. Madame, con voce alle 7 e 11 minuti, buongiorno a tutti ancora e grazie mille di essere ancora qui con noi. Arriviamo nei WhatsApp, 331-78-535-555. Alberto ci dice buongiorno Fabio, buongiorno Cristallini, buongiorno anche a te. E siamo arrivati anche al weekend pasquale. Quest'anno sotto la pioggia, ma dopo la pioggia c'è sempre il sole o no? E così sembrerebbe, ma anzi, se vado a leggere da Corriere della Sera Milano, arriva una notizia che dice meteo, Pasqua e Pasquetta a Milano. Nuvole e sole, ma la grigliata del lunedì dell'Angelo sembra salva. Occhio alla cometa cornuta. Non so cosa voglio dire, andiamo a leggere. Allora dice gli esperti, mi piace sempre che sono gli esperti, gli esperti dicono il ciclone della Colomba potrebbe riservare piogge fino alla mattina del primo aprile. Visibile poi dopo 70 anni, nubi permettendo, la cometa Atlas che passerà proprio sopra di noi. La grigliata di Pasquetta sembra quindi salva, ma la prudenza è d'obbligo quando si parla appunto di meteo, vi ho spiegato più volte anche il perché. Soprattutto perché a Milano ci aspettano giorni molto variabili, con qualche breve acquazione e poi schiarite. Così spiega Lorenzo Tedici di ilmeteo.it. Sono gli strascichi del ciclone della Colomba, che dopo un mattino di Pasqua da cielo coperto, potrebbe portare pioggia nel pomeriggio appunto di Pasqua, fino alle prime ore del lunedì. Dall'ora di pranzo poi spunterà il sole con temperature, pensate, fino a 16 gradi. Quindi prima sia in autunno e poi di colpo si passa all'estate. Sta di fatto che se avete pensato di fare la grigliata dentro un prato, forse, forse io cambierei comunque idea. Se avete un patio con sotto magari del bel grespo orcellanato, allora lì si può pensare di dare un'asciugata. Però se siete in mezzo all'erba, in mezzo al... Finite che fate il fango, fango di Pasquetta. Sta di fatto che appunto bisogna aspettare fino all'ultimo. Quindi preparatevi il piano B, come dicono gli esperti, e state attenti sempre con un occhio al cielo. E vedete, al massimo fate un... Incollate i piatti sul tavolo, li mettete fuori, poi se piove via dritti dentro, li portate dentro tutti insieme. Cioè è una roba così dovete fare. Ormai è l'unica soluzione. Oppure, per chi ha la possibilità e lo spazio, preparatevi due tavole. Una in casa e una fuori, no? Fate così. Una in giardino, ve la mettete già pronta, l'altra la preparate già pronta in salotto. E vedete, al massimo fate magari l'antipasto in salotto, poi uscite per mangiare il primo la mazza caffè, poi tornate dentro per fare il secondo, poi uscite per fare il dolce la mazza caffè. Possiamo fare così. Sempre più caraibico il clima dalle nostre parti ormai. Siamo veramente nella stagione delle piogge. Piove, poi quando smette, ritorna il sole e sembra tutto finito, e poi dopo ancora qualche ora torna così. Sta di fatto che quindi Pasquetta potrebbe salvarsi, ma attenzione ai rovesci. Inoltre, tra nubi e pioggia, c'è anche la speranza di intravedere in cielo la cometa Cornuta, si bene dopo 70 anni, dopo 70 anni arriva questa cometa, la cometa Atlas, che passerà sopra di noi. E quindi potrebbe essere che la si veda. Chissà, chissà, se riusciremo, grazie alle nubi, anche a vedere questo spettacolo pazzesco della cometa Cornuta, la cometa di Atlas. Chissà. Comunque, quello che invece non sappiamo, ma possiamo scoprirlo all'istante, è invece com'è la situazione del traffico in questo istante nella nostra città. Io non esco a vedere, non lo so, ma posso collegarmi con i grandissimi e bravissimi professionisti di luce verde, che come sempre tutte le mattine vanno a controllare per noi com'è la situazione del traffico a Milano. E quindi, luce verde a voi! Gianni Russo con un'estate al mare. No, noi faremo invece una Pasqua a Milano. Questa sarà, potrebbe essere la seconda parte di questa canzone. Volendo, non mi ero mai accorto dei gabbiani finali che stridolano così, ma comunque. Sta di fatto che, appunto, stiamo a Milano. La Pasqua ce la facciamo qui. Non è l'unica festa di questo periodo, la Pasqua, ma lo sappiamo da ormai tanti giorni, c'è anche il Ramadan. In questo momento siamo nel mese di Ramadan e la fine del Ramadan il 10 di aprile con tutto quello che ne consegue, soprattutto le polemiche inutili e sterili sulla scuola di Pioltello. Ma non è l'unica inutile e sterile polemica uscita intorno al Ramadan. Ricordate che ieri vi ho parlato del comune di... cioè del festa il 3 di aprile, se non sbaglio, che verrà fatta dopo il tramonto, ovviamente, per festa di Ramadan a Renate in provincia di Monzebrianza grazie all'Associazione La Pace. La cosa divertente che è venuta fuori è che i leghisti che protestano e tutto quanto in realtà l'hanno fatto loro. O meglio, sentiamo cosa succede. Allora, leggiamo da Corriere della Sera a Milano, Renate e la cena di Ramadan nel cortile dell'oratorio. Il parroco dice i leghisti protestano ma l'hanno proposta loro. In che senso? Ebbene sì, l'Associazione La Pace aveva chiesto uno spazio al comune che quindi deduco sia di colore verde lega e lì il comune ha avuto il suggerimento di rivolgersi alla parrocchia e Don Claudio Borghi dice pensate noi facciamo supplenza alle istituzioni. Complimenti ai leghisti come sempre per aver fatto una bella scivolata di quelle interessanti perché la lega contro la cena dei musulmani in oratorio ma sembrerebbe appunto che a indicare la via della parrocchia sia stato proprio il comune leghista. Così dice il Corriere della Sera una commedia una vicenda da commedia degli equivoci ma che finisce appunto per allungare la tradizione della farsa politica da campagna elettorale. Eh, perché questo ci siamo persi ragazzi. Il tema è proprio questo. Tutti sti gran casini sono solo ed esclusivamente fatti per campagna elettorale. 9 giugno si vota le europee qua dietro l'angolo e quindi non vogliamo mettere un po' più di benzina sul fuoco già che ci siamo io devo fare veramente i complimenti ai nostri politici che ultimamente stanno creando un clima davvero brutto e cattivo intorno a delle situazioni che potrebbero benissimo essere gestite in altra maniera e attenzione in questo caso stiamo parlando della Lega di Renate che ha fatto veramente una roba da commedia neanche una commedia di Fantozzi veniva in mente qualcosa del genere ma non sono gli unici nel senso che da una parte ci sono loro dall'altra parte c'è una sinistra che non è minimamente capace di gestire questa situazione e che anzi continua anch'essa a fomentare odi e screzzi che potrebbero benissimo non esserci e quindi io credo che noi potremmo essere un po' meglio noi cittadini facciamo vedere che noi cittadini possiamo essere meglio della nostra classe politica però mi raccomando poi non dimentichiamocelo il 9 di giugno quando andiamo a votare anche lì cerchiamo di essere migliori di cosa ci viene proposto magari così in alto del cartellone andiamo bene a leggere tra le righe perché la gente che è capace c'è sia da una parte che dall'altra sia che voi la pensiate in una maniera o nell'altra la gente capace c'è ma viene fuori sempre quella più incapace e quindi cerchiamo invece di dare una mano a quelli capaci e cerchiamo di far sì che la politica torni ad essere qualcosa di interessante e che davvero si interessa invece a noi cittadini questo è il mio auspicio questo è il mio auspicio di una campagna elettorale che si prospetta davvero una delle campagne elettorali più brutte che io abbia mai visto anzi mi ridire che sono abbastanza schifato da come sia iniziata questa campagna elettorale e siamo solo 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 all'inizio Fiorella mannoia mariposa lo sapete benissimo essere la mia canzone preferita di questa edizione di Sanremo questa non riesco a togliermi Sanremo da testa sarà che ci sono stato forse per quello sarà che abbiamo trasmesso ricordate quando siamo stati in compagnia in quei cinque giorni da Sanremo insieme è proprio bello devo dire a voi è piaciuto venire da con me benissimo ditelo così che il prossimo anno ci ritorno ancora è promesso magari cerco la casa adesso che insomma ricordatevi è stata un'impresa trovare casa in quei giorni comunque adesso noi ci fermiamo un attimino piccola pausa un paio di canzoni e vedo già grandi canzoni programmate tra cui un pezzone classico che però vi farà ballare e un ritorno di poco o da poco di una grande artista italiana comunque fra poco ancora qui in diretta su crystal radio con good morning milano e dopo la pausa vi diamo gli eventi delle prossime giornate a cui potreste andare oppure non andare quello lo lascio a voi decidere Gianarranini io voglio te e chi vogliamo al venerdì è ovviamente sempre sapere che cosa e dove andare a fare non c'era un italiano in questa frase comunque vabbè sto parlando della nostra rubrica del venerdì gli eventi della settimana a cui io non andrei e buongiorno Eribi buongiorno buongiorno e grazie mille per avermi dato questo spazio prego perché non lo sai io ascolto tutti i giorni il tuo programma e tutti i giorni quando c'è un ospite dice queste cose quindi ti ringrazio veramente per avermi invitata nella tua trasmissione cioè stai facendo del dissing verso i miei ospiti no non sto facendo del dissing sto facendo del dissing verso di te ah ok grazie gentilissimo come sempre allora dove andiamo cosa facciamo c'è la Pasqua intanto oggi è il giorno più importante della Pasqua ricordatevi questo mi raccomando non essere blasfema no no assolutamente però oggi si compie uno dei primi misteri cioè la morte di Gesù non è tanto un mistero forse l'unica cosa vera e reale ecco già incomincia però vabbè comunque è importante ricordatevi di mettervi una sveglietta alle 15 per ricordare il momento in cui Gesù muore che poi anche lì vabbè non è capito cioè alle 15 tutto il mondo non c'era il fusorario ma questo fa abbastanza ridere appunto per questo non c'era il fusorario fa niente fa niente io alle 15 lo farò non mi fa ridere questa cosa che hanno dovuto decidere ma perché chi ha deciso quell'orario non lo so leggi la Bibbia non credo ci sia scritto non lo so non so chi può essere forse comunque vabbè comunque comunque allora partiamo a cannone vai ok allora vabbè è Pasqua mi è sembrato di vedere che Trenno organizza si è organizzato molto prima per prendere le grigliette per Pasquetta però non si sa se sarà bello sarà brutto non sarà facile secondo me comunque andate con dei teli teli anche plastificati sì con tanti ombrelli ok va bene partiamo a Senago dal 31 al primo di aprile quindi mi viene da dire Pasqua e Pasquetta c'è la sagra di Pasqua e Pasquetta che tu dici vabbè si mangeranno bla 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 polinta e zola beh non so non male bruschette con il lardo e il miele mi piace eh così un po' così un po' montagnina come cosa visto il clima ci sta però Senago non è in montagna no non è in brianza niente io non ci andrò bene però mi piacerebbe sapere se qualcuno di voi ci va ma soprattutto Pasquetta cioè Pasqua scusa Pasqua si fa con i suoi con i tuoi scusa no Pasqua è con chi vuoi Natale con i tuoi Pasqua è con chi vuoi vabbè comunque vabbè questo l'hai già detto anche tu che riapre il campo dei tulipani e anche nel weekend questo che è sicuramente ci sarà un sacco di gente ma attenzione non è più gratis era gratis fino al 22 di marzo a me il tulipano è il mio fiore preferito però ho sempre visto negli ultimi anni troppa gente e quindi sai che io sono un po' agorafobica senti che bella parola che ti ho tirato fuori quindi non ci andrà mi dispiace per Irwin Edwin Edwin voi siano già in vacanza va bene ma tenete lo sclero vivo ah perché perché a Pasquetta c'è in Terempoli alle 20.45 come fa a giocare stasera anche a Pasquetta gioca stasera e gioca a Pasquetta sei sicura assolutamente sì perché credo debba recuperare qualcosa adesso va bene tu va avanti intanto controllo se hai detto la castoneria o cosa invece per gli amici che amano la musica da giovane quest'oggi alle 17 alla Mondadori di Piazza Duomo c'è un amico di Ro che si chiama Rove che va a incontrare i fan e firma le copie dell'album che mi piace molto che si chiama Popolari è l'immagine della copertina dell'album e lui è affacciato davanti a una casa di ringhiera molto bello però io non ci andrò perché non mi interessa Rove ecco poi 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 andiamo avanti non sto trovando notizie della partita di questa sera c'è cerca qualcosa inter cosa inter qualcosa voledì cosa c'è ho visto inter Empoli sì giusto quello è giusto se invece cari amici volete andare via vi suggerisco visto che il periodo è quello pasquale quindi dedicato diciamo alla spiritualità G Bravo Travel che è un un'agenzia di viaggi c'è Inter Roma hai ragione ma alle 18.30 sì esatto inter Roma quindi sclerate pure comunque stavo dicendo che se invece volete andare via ma no c'è il femminile oggi alle 18.30 di Inter Roma è il femminile sì ma San Siro comunque ma non credo no 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 guarda che io ho visto dei cartelloni in mezzo allora 3 3 1 7 8 5 3 5 5 5 aiutateci perché qui ne uno ne l'altro in via l'orienteggio c'è un una pubblicità enorme no le pubblicità che cambiano ti dicono quando ci sono le partite non sto scherzando si vuole che non ci piassi mai no non ci posso mai l'orienteggio mi spiace comunque Gibravo Travel ti organizza a partire da oggi oggi è il 29 sì da oggi al primo di aprile un bellissimo pellegrinaggio a Lourdes ci vuoi andare? beh dai interessante io prima o poi ci andrò ragazzi adesso era impossibilitata non ci va questo è un evento a cui non andrei perché questo è un po' un periodo caldo per la spiritualità quindi se dovete andare a Lourdes ci andate in un altro momento che non siano feste è più interessante andare durante le feste è il momento più bello del momento la spiritualità si segue non è che ho capito ma come dire vado a Natale è più bello che vado al 12 di febbraio così a caso vado nel mese della Madonna c'è più interessante ma vado nel mese della Madonna appunto nel senso no va bene invece a qualche passo da Milano adesso ti chiedo un favore mi vai a vedere quanti chilometri è San Martino Siccomario dal centro di Milano per favore non è lontanissimo che è provincia di Pavia il titolo dell'evento era a due passi a Milano c'è il villaggio delle uova quindi dalle 10 alle 18 non era indicato il prezzo potete portare i vostri bambini e c'è la caccia al tesoro delle uova chiaramente poi potete comprare uova di Pasqua a Cannone e divertitevi e sapete che dove ci sono i bambini io non ci sono ho gli ultimi due eventi sono 45 chilometri da San Siro più o meno sono 46 minuti di macchina diciamo che se qualcuno ha scampagnato sono 100 chilometri va bene appena sotto Pavia due passi dobbiamo rivederla caro Milano che cosa intendi vabbè comunque ho due eventi uno mi incuriosiva tantissimo il titolo perché il titolo è Avanzi di Balera bello tu dove pensi che sia? così proprio ti ho subito Balera dell'Ortica anche io e invece no e invece Albarios domani alle 23 c'è questa serata Avanzi di Balera non lo so è bella però mi piaceva perché gioca anche un po' sugli avanzi e beh sì ah non è quello non so il fatto che sono degli avanzi di galera anche avanzi di galera però l'Avanzi di Balera e se è il Barios non puoi chiamarlo l'Avanzi di Balera cioè rubi tutti i titoli e l'Ortica vabbè è peggio per quelli dell'Ortica bravi un applauso a quelli del Barios sempre e sempre Barios infatti tra Barios e Ortica mi spiace perché ricordatemi una cosa posso dirla dare una padrona sempre e comunque eccola detta finisco con una cosa che molto probabilmente a te piacerebbe a me nervosirebbe perché non ci andiamo? perché mi nervosisce questa sera ma comunque ce ne sono altre vengono organizzate credo settimanalmente almi scusi di Bocconi che è in via Leblighi e già questa roba mi fa ridere o i Bocconi o i Blighi a me sono di fianco comunque c'è la cena cantata bello orca miseria perché? perché o mangio o canto ma non è che canti tu cantano gli altri no c'è una cantata vuol dire che anche tu canti mentre mangi io l'ho intesa così cioè che sei lì che stai mangiando e canti ma ridetta primavera fredda c'era e poi ti strozzi ok allora ho capito non c'è nessuna parita San Siro stasera c'è Inter Roma femminile all'arena civica ok va bene a 18.30 grazie infatti mi sembrava strano che giocassero così a due giorni di distanza l'un dall'altro comunque in Terempoli c'è a posquetto alle 20.45 quindi anche se andate a fare la grigliata a trenno ricordatevi che poi a un certo punto arrivano tutti quelli che devono parcheggiare eh sì anche qua è vero che non è comunque volevo dirvi che questi eventi di questa settimana secondo me erano un po' spenti ma per settimana prossima ne ho trovato uno fantastico hai già provato quella settimana prossima sì sì ce ne sono tantissimi settimana prossima e allora appuntamento a venerdì prossimo con gli eventi della settimana a cui Erbino andrebbe quindi Fabio io ti ringrazio tantissimo per avermi dato l'opportunità di parlare qua alla radio auguro a tutti una serena Pasqua e mi raccomando come dice il mio amico Andrea Variale cosa dice? mangiate tanto e bevete pure grazie mille buona giornata e questo era Stroma ecco un Tullemem grande artista Stroma che è stato l'anno scorso qui al il Podome di San Siro in un bellissimo concerto che abbiamo avuto l'opportunità di poter andare a vedere artista che ha l'ha detto anche lo stesso Gali influenzato tantissimo la produzione musicale di Gali tra parentesi poi proprio in questa canzone secondo me c'è un riferimento molto legato a un'altra canzone di Gali che è Rendezvous poi la prossima l'ascolteremo un giorno insieme e vi farò sentire come veramente le due canzoni sono molto simili ma volutamente se l'appunto Gali l'ha detto tra parentesi Gali presente a quel concerto l'abbiamo visto tutti ho salutato tutti quanti anche i suoi conquartirani lui è di Baggio San Siro quindi insomma eravamo qua tutti vicini di casa come dire la grande musica appunto di Stroma che ha influenzato sicuramente quella del grande artista Gali andiamo invece avanti con le notizie di tutt'altro parliamo parliamo di chi insomma si diverte un po' troppo o meglio non sa divertirsi più di tanto quindi deve ricorrere all'utilizzo di sostanze tutto questo giro per dirvi che cosa sono arrivati i nuovi dati delle analisi sulle acque di scolo della città di Milano ed è venuto fuori di tutto cocaina e MDMA in crescita exploit della ketamina cosa dicono le analisi delle acque di Milano sui consumi di droghe leggiamo da Repubblica Milano ci usciamo sempre bene complimenti veramente milanesi facciamo sempre fare delle belle figure i nuovi campioni riprelevati dalle acque del depuratore di Nosedo per l'annuale ricerca del Mario Negri segnalano dati in aumento di tutte le sostanze dopo ovviamente il calo durante il periodo del covid per la cannabis pensate in dieci anni c'è stato quasi un raddoppio ebbene sì quindi pensate che tutte le volte che andate in bagno in quel momento qualcuno sa cosa avete fatto una volta vi diceva io vi vede ovunque sappiate che adesso vi vede anche il chimico e quindi qualsiasi cosa voi facciate in fondo lo sappiamo quindi in fondo la vostra coscienza chiedetevi se state facendo la cosa giusta l'incremento riguarda cocaina e cannabis ma anche MDMA cioè l'ecstasy il cui consumo tra il 2020 e il 2021 era collato durante la pandemia che aveva bloccato così dice la Repubblica buona parte dei divertimenti notturni e chiusi locali notturni quindi si dà questa situazione cioè si dice che l'ecstasy e la MDMA siano legati solo a quel mondo lì ma adesso arriva anche sono tornati a salire e arriva anche la chetamina sulla carta è un farmaco anestetico che però si è assunto in dosi più basse rispetto a quelle che occorrono per l'anestesia provoca in chi l'assume potenti effetti psichedelici tutte sostanze con delle impennate tra venerdì sabato e domenica nel pieno della movida del weekend ecco perché quindi si lega all'utilizzo si lega anche al fatto dei locali notturni e così consumo appunto fotografia questa del consumo di droga a Milano che emerge dall'ultima rilevazione condotta dal Mario Negri l'istituto di ricerca che appunto dal 2005 ogni anno fa uno studio sulle acque refluen milanesi con il prelievo di campioni dal depuratore di Nosedo quindi insomma questa è la foto che in questo momento viene fuori della nostra città una città sempre più in aumento con l'utilizzo di farmaci e di droghe andiamo poi se andate avanti nell'articolo molto lungo e ben scritto di Repubblica potete trovare tutti i dati che riguardano anche poi i confronti con gli anni appena passati così che si possa capire meglio la situazione di una città che qualcosa ha che non va perché insomma un utilizzo così alto sicuramente legato a una diciamo parte divertita divertimento che andrebbe forse ripensata nelle modalità in cui noi esseri umani vogliamo per forza divertirci ma che comunque può anche portare invece a far capire che c'è una città che ha bisogno magari di altri stimoli per non buttarsi in un mondo quello dell'utilizzo di droghe e sostanze che sappiamo comunque non essere proprio il migliore modo per portare avanti la propria vita leggete la Repubblica Milano cocaina e MDMA in crescita esploade la ketamina cosa dicono le analisi delle acque di Milano sui consumi di droghe andate a dargli un'occhiata molto interessante tanti dati che potete snocciolare poi e capire meglio appunto cosa state facendo quindi mi raccomando e attenzione ricordatevi ogni volta che andate a fare la pipì il chimico lì vi sta osservando e a Tears for Fears con Shout alle 8 e 11 minuti questo era il Crystal History delle 8 appunto e quindi bentornati su Crystal Radio bentornati a Good Morning Milano continuiamo a parlare di musica non l'ascoltiamo solo ma parliamo anche quest'oggi di musica di uno spettacolo che andrà in scena il 3 di aprile al Lirico dal titolo che non poteva essere più eloquente parliamo di Beatles Story che è anche il nome dei coloro che saliranno sul palco per farci raccontare appunto questa storia musicale che in tanti amiamo e abbiamo in collegamento con noi Patrizio Angeletti buongiorno Patrizio buongiorno a tutti buongiorno Fabio e allora Patrizio di che cosa stiamo parlando che cosa succederà il 3 di aprile al Teatro Lirico cos'è questa Beatles Story Beatles Story è un viaggio un viaggio un viaggio multimediale che va diciamo dall'inizio della nascita della band dei Beatles dal 62 quindi fino al 70 attraverso diciamo un viaggio ecco sensoriale culturale musicale visivo che abbraccia un pochettino tutti quanti diciamo quelli che sono gli album più importanti che sono stati pubblicati dalla band e quindi dalla Beatlemania passando per per lo Shea Stadium passando per Sgt Pepper e tutta quanta la parte più psichedelica della band fino alla parte quella 68 del White Album ad Abberot e quindi al finale diciamo al 70 quando poi la band si scioglie quindi è uno spettacolo che tratta sia la parte diciamo concertistica dei Beatles che hanno fatto live dal 62 al 66 sia la parte diciamo ancora più speciale quella lì degli album perché i Beatles hanno smesso insomma di esibirsi live nel 66 quindi andiamo anche ad esibire live quegli album quelle canzoni che i Beatles hanno soltanto registrato mai seguito quindi è uno spettacolo insomma particolare per tanti motivi la cosa interessante appunto è che non è non è un concerto cioè non stiamo andando a vedere un concerto non è solo quello non è solo però neanche uno spettacolo non sarà un monologo dove raccontate tutto quello che avviene dietro le scene che nessuno sa però è tutto un quarto veramente mi viene in mente veramente la copertina di Sgt Pepper no? Sì è un a me piace pensare che sia uno spettacolo che è a cavallo tra un concerto ed un musical quindi è una parte diciamo sicuramente è un concerto perché è suonato e noi lo suoniamo con mi sembra 40 pezzi in poco più di due ore eseguiamo 40 pezzi ma c'è anche tanta parte scenica per questo parlo del musical c'è una parte delle parti recitate delle parti recitate tra un pezzo e l'altro perché noi andiamo a seguire diciamo ci andiamo andiamo a performare in lingua in inglese riproducendo un pochettino quelli che sono i suoni e quelle che sono le battute lo stile dei Beatles non uscendo mai insomma da quello che è il personaggio che andiamo a rappresentare quindi non è per rappresentare ma è anche insomma come dicevo prima uno spettacolo visivo perché andiamo insomma ad eseguire vari cambi di scena interpretando le varie epoche perché insomma gli anni 60 sono ricchi di tanti elementi culturali differenti e quindi ci andiamo a vestire andiamo a vestire diciamo costumi particolari 5 o 6 diversi costumi con diverse anche scenografie diversi un supporto audio e video importante mentre suoniamo e anche quando parliamo quando usciamo di scena per andarci a cambiare insomma è tutto un è un viaggio un po' molto rock molto pop ma anche in parte mistico è un po' lo spettacolo che non avete mai visto è un magical mystery tour citando un'altra canzone dei Beatles la cosa che è passata così magari mentre raccontavi ma che spesso ci dimentichiamo è che parliamo di un gruppo che come dicevi ad esempio in 4 anni ha fatto tutto perché poi dopo hanno smesso di fare live ad esempio in 4 anni hanno veramente rivoluzionato il mondo della musica e quello che mi fa piacere è vedere un volto giovane come il tuo che insomma va a raccontare una storia perché devo dirti la verità quando abbiamo visto arrivare il comunicato stampa inizialmente sarà l'ennesima roba dove tutti quelli delusi dal 68 si ritroveranno a fare analisi di gruppo dicendo si stava meglio quando si stava peggio si metteranno a darsi le pacche sulla spalla saluto intanto tutti quelli che mi ascoltano che sono tutti così no scherzo un saluto ai miei ascoltatori infatti sono contento di raccontare questa cosa perché so che tutta quella partita verrà comunque ce la troveremo lì ma è bello invece vedere che insomma un volto giovane come si è arrivato appunto a questo percorso poi tu suoni anche appunto sul palco e suoi uno strumentista anche quindi ma come si è arrivato però a voler raccontare appunto i Beatles e non magari altre cose che erano più affini magari appunto alla tua generazione certo ma che dire per me personalmente ma anche per gli altri ragazzi sì posso parlare insomma non meno di tutti quanti i Beatles sono insomma la nostra band preferita e quindi questo qui lo rende un piacere sempre stare sul palco e lavorare anche duro insomma in tanti momenti diversi dell'anno abbiamo deciso insieme a Robby e Roberto Angelelli che è il mio partner in crime di questo spettacolo voi siete Angelelli e Angeletti cioè avete detto apposta nel senso come potrete insomma sentire dalla pronuncia veniamo dal centro da Roma e dintorno insomma e quindi sì i cognomi sono molto simili diciamo che sì abbiamo pensato ai Beatles perché è uno spettacolo diciamo i Beatles sono la nostra band preferita siamo proprio appassionati noi ascoltiamo Beatles anche quando non li suoniamo siamo proprio dei fanatici quindi insomma anche chi viene a vedere lo spettacolo posso assicurare insomma lo spettatore che vedrà uno spettacolo molto affinio cioè molto diciamo dedicato ai Beatles non è una non vedrete si parietti particolari o cose insomma molto commerciali o proprio qualcosa di molto specifico però Patrizio per arrivare a questo immagino anche un grandissimo lavoro di ricerca e di studio proprio dei Beatles non solo appunto di quello che era magari le cronache rosa le solite storie che sappiamo tutti no? sì per quello dicevo tanto lavoro perché insieme a Robby abbiamo insomma cercato le persone giuste che potessero essere affini a vari ruoli io interpreto oltre ad essere uno degli organizzatori dell'evento del tour sono anche un performer sul palco interpreto John Lennon sul palco ma ognuno di noi ognuno di noi è stato scelto per delle particolari caratteristiche diciamo di suono di atteggiamento di appeal che abbiamo sul palco per interpretare i diversi personaggi quindi è stato un lavoro di ricerca lungo un lavoro anche di affinamento insomma perché poi sul palco i Beatles molto spesso sono visti con una band che sono un po' così semplice da suonare perché gli anni 60 insomma sono fatti di musica pop realmente semplice da eseguire in realtà non è così i Beatles posso assicurare perché i Beatles sono una delle band se non la band è più complicata in assoluto da riprodurre live perché loro come dicono loro erano una piccola grande band e quindi eseguire avere quel tipo di sound ovviamente noi siamo aiutati anche dal nostro fonico Nicola ma anche da tutti quanti gli altri tecnici Francesco Frank Tony che ci aiutano nel riprodurre perché ci passano le chitarre giuste ci aiutano con il suono con il reverbero con le cose che diamano anche poi Patrizio ricordiamo anche questo appunto che dicevi musiche che non sono nate per essere fatte live perché dal 60 dicevi dal 62 no dal 66 dicevi dal 66 in poi appunto non si e anzi lo sappiamo benissimo a quel punto si sbizzariscono doppi incisioni sovra incisioni cioè cose che live è praticamente impossibile all'epoca fare adesso magari con la tecnologia un po' si riesce però insomma beh no è tosta facciamo anche con l'aiuto un pochettino della tecnologia comunque è molto complicato infatti noi abbiamo deciso di dividere lo spettacolo in due parti il primo tempo di circa un'ora è dedicato alla parte concertistica live dei Beatles quindi partiamo dal Cavern Club da quando loro hanno cominciato agli inizi degli anni 60 con i loro primi pezzi beat e poi dopo con Beatlemania I wanna hold your hand She loves you Harvest Night Help fino ad andare insomma ecco la parte dello Shays Stadium loro i Beatles non so molti magari non sanno ma i Beatles sono la prima band ad essere esibita in uno stadio e lo hanno fatto nel 65 tantissimi anni fa 60 anni fa quasi 59 e insomma e quindi la prima parte riguarda tutta la parte live c'è una pausa di un quarto d'ora e poi quando si riprende lo spettacolo noi ci dedichiamo a tutti gli album che i Beatles non hanno mai seguito live per quella mezz'ora in cui nel 69 suonarono sul tetto di Abbey Road il famoso tetto degli studios di Abbey Road ma ecco tutta quella parte là invece è dedicata e quindi per questo lo spettacolo dei Beatles che non avete mai visto perché vedrete live musica che i Beatles non hanno mai veramente eseguito molto spesso neanche Paul McCartney da solo però infatti allora ricordiamo quindi Patrizio l'appuntamento dacci tutte le coordinate ricordiamo anche poi gli altri componenti il 3 aprile al teatro Lyric di Gabber di Milano mercoledì 3 aprile alle 21 quindi questo spettacolo qua insomma ci teniamo particolarmente perché per noi è la prima volta che veniamo a Milano Centro abbiamo tonato intorno ad Astagua a Monda mai a Milano quindi il nostro esordio esordio a Milano Centro e ci teniamo su un teatro anche importante perché insomma si chiama teatro lirico ma il sottotitolo che è sempre più ingombrante è teatro Giorgio Gabber quindi a Milano è un grande nome infatti quando c'è stato offerto insomma abbiamo ragionato bene abbiamo detto potrebbe essere il teatro giusto e quindi siamo sicuri che sia il teatro giusto che siamo sicuri di fare insomma una buona performance perfetto allora Patrizio io ti ringrazio davvero tanto appuntamento quindi il 3 di aprile al teatro lirico con Beatles Story abbiamo parlato appunto la storia dei Beatles non possiamo quindi che non salutarci ascoltando un brano dei Beatles dall'ultimo disco se non sbaglio dei Beatles appunto Let It Be l'ultima volta che si sono trovati tutti insieme in uno studios e hanno registrato questa fantastica traccia che quindi ti ringrazio Patrizio che ovviamente ascolteremo anche durante lo spettacolo immagino assolutamente penso proprio di sì biglietti disponibili su Ticket One ok perfetto grazie mille grazie mille Patrizio e allora andiamo avanti con i Beatles Let It Be qui alle 8 e 22 minuti Crystal Radio Good Morning Milano Let It Be Whisper words of wisdom Let It Be io non so voi ma qui abbiamo cantato tutti questi erano i Beatles Let It Be vi ricordo ancora il 3 di aprile al teatro lirico Beatles Story accorrete gente accorrete andate anche appunto biglietti in vendita su Ticket One come ci diceva il bravissimo Patrizio Anna Geletti mi raccomando andate cantate cantate tutti insieme perché insomma i Beatles sono quella roba che ci fa cantare tutti quanti tutti quanti tutti quanti di ogni generazione so che in questo momento appunto in molti e anche in cui redazioni non so se avete seguito anche la diretta video si è visto che insomma il pezzo ha preso ha preso tutti quanti nuove generazioni e vecchie generazioni come la mia andiamo avanti invece con un altro gruppo che è tornato alla grande con una nuova canzone ma adesso noi ci ascoltiamo un grande classico di Ricchi e Poveri andiamo quanti con Ricchi e Poveri sarà perché ti amo ed eccoci qui tornati insomma la pausa con i Beatles ci ha fatto cantare ballare poi dopo i ricchi e poveri insomma è stato così voi come state andando come va questa mattinata 8 e 35 minuti thanks god it's friday venerdì 29 marzo 331 7853 555 e ringrazio il buon Ambrogio che ci ha scritto un messaggio proprio in base mentre andava l'editbino che ci diceva pensate che John Lennon detestava l'editbino pensate invece poi aggiunge che io invece la adoro e pensate che John Lennon dice appunto Alberto non gli piaceva quel brano perché diceva che Paul Paul McCartney appunto che è autore del brano si era troppo ispirato a un'altra canzone di Simon e Garfunkel non so se come dice Simon e Garfunkel famosissimi il brano in questione è Bridge Over Troubled Water che fa più o meno così come si dice in questi casi e c'è qualcosa un po' un piano adesso John adesso si vediamo ma no dai John non essere così un pochino c'è una voce e un pianoforte adesso John va bene che tu eri un perfezionista però forse è un po' esagerato dire che si è speruto troppo a questo brano dai non so ogni tanto è uno dei grandi misteri dei Beatles come abbiamo fatto comunque a convivere per otto anni e riuscire a stare insieme uniti e fare quei capolavori nonostante insomma avessero dei caratterini mica male ricordo sempre lo dico ogni volta di darvi un'occhiata a Get Back il documentario che trovate su Disney Plus se non ricordo male se è il punto Get Back il documentario che trovate su Disney Plus sono quattro puntate una più interessante dell'altra fatevi un giro adesso guardatevelo perché è davvero davvero molto molto interessante e alla regia appunto di Peter Jackson regista del Signore Dianelli lo Hobbit e quelli lì che ha portato in scena devo dire importanti momenti della loro vita e si vede però in realtà anche all'interno di questo documentario come si uniti fino a un certo punto perché poi comunque gli scazzi c'erano sempre gente che voleva andarsene praticamente ogni tre per due dove c'era gente che voleva no basta lascia il gruppo me ne vado poi qualcuno andava a prendere no dai Giorgio torna indietro vieni qua no me ne vado no aspetta Paul vieni qua e sta di fatto che grazie a questo modo di fare che poi insomma quando poi imbracciavano una chitarra o la batteria o il microfono davanti alla bocca diventavano un corpo e un'anima citando altre canzoni venute dopo sta di fatto che insomma ci hanno regalato i grandissimi successi che ancora oggi cantiamo e che continueremo a cantare ho idea per tantissimi tantissimi anni ancora la musica di oggi non è più quella non è più può essere può essere chissà se un gruppo come i Beatles adesso avrebbe anche solo la possibilità di fare quello che ha fatto perché ricordiamoci insomma quattro anni di live in giro per il mondo ma produzioni molto ben curate qualcuno che ci ha creduto fin dall'inizio e non subito sono arrivati cioè all'inizio è stato subito all'inizio a boom esploso c'è stato bisogno di portarli di fare un certo tipo di promozione promozione che adesso sarebbe comunque tutta un'altra storia quindi quando diciamo eh ma lo chissà se adesso chissà chissà se nel momento storico che stiamo vivendo un gruppo come i Beatles farebbe lo stesso successo che ha avuto all'epoca ma soprattutto se potesse creare le stesse hit e le stessi capolavori che ha creato all'epoca chissà non lo so ma la musica adesso è diversa ci fa cantare e ci fa ballare magari in altre maniere come ad esempio Levante insieme a Max Gazzè Levante pezzo di me insieme a Max Gazzè alle 8.42 minuti qui su Crystal Radio Good Morning Milano abbiamo parlato di Beatles e veramente io mi chiedo sempre cosa sarebbe ora come potrebbe ora un gruppo farcela se ci pensate la cosa più vicina e so che in questo momento qualcuno cadrà dalla sedia mi arriveranno insulti e tutto però diciamo il fenomeno un po' più vicino in questo momento potrebbe essere quello di Maneskin cioè il fatto di fare una band di giovani che riesce a spopolare in tutto il mondo ci sono anche altre o meglio ecco forse Maneskin sì perché sono molto vicini a noi ma ad esempio il fenomeno del K-pop ok quel fenomeno lì che ha portato in giro i BTS non credo ci siano ancora chiedo alla regia fatemi un cenno i BTS sono ancora in auge sì Maria sì sì ok perfetto perfetto i BTS ci sono ancora perfetto perché un attimo poi perché appunto il trama poi è questo che adesso tu fai il successo ma poi nel giro di sei mesi non sei più nessuno invece ci sono comunque dei fenomeni come quello del K-pop ad esempio con i propri BTS che invece vanno avanti negli anni e comunque continuano però non è la stessa cosa cioè è completamente diverso è tutto è vero anche che molti dicono attenzione i Beatles musicalmente qualcosa di inarrivabile ormai ai più ma furono anche la prima boy band alla fine se ci pensate una delle primissime boy band a fare successo quindi se poi esistono i Take That i Backstreet Boys è tutto grazie anche a quello insomma i Beatles furono rivoluzionari non solo dal punto di vista musicale ma anche appunto dal punto di vista proprio del costume della società ma non erano i soli però perché c'era anche l'altro side the other side of Britain che erano i Rolling Stone e sì perché c'erano anche quelli e quindi vedi che anche questa cosa delle diatrime non so in Italia tornando a noi negli anni 60 avevamo Celentano Morandi ori da una parte o dall'altra negli anni 90 il Britpop aveva gli Oasis e i Blur ok di che schieramento eri ovviamente io dei Blur ma insomma di che schieramento eri è quello e quindi la domanda era anche lì ma tu stavi con i Beatles o con Rolling Stone da che parte stavi chissà sta di fatto che insomma anche quegli altri le pietre rotolanti hanno fatto grande cose della musica Nick Jacker 80 anni in questi giorni e soprattutto avete visto un video che sta spopolando sui social balla ancora come se ne aveste 20 anni che soddisfazione che satisfaction let's water say eh bene sì Rolling Stone satisfaction che pezzo anche questo ragazzi eh Rolling Stone insomma un po' meno magari osannati dei Beatles da una parte soprattutto magari più italica che ricorda soprattutto milanese che ricorda il concerto al Vigorelli il doppio concerto al Vigorelli noi mi hanno parlato spesso quindi insomma beh c'è poco da fare cioè abbiamo le immagini la famosa foto dei Beatles con dietro le guglie del Duomo insomma va bene però insomma anche Rolling Stone è niente male niente male dicevo prima poi di Atribe appunto Rolling Stone Beatles che poteva essere più internazionale ma poi c'erano quelle più locali e una di quelle soprattutto che distingue le nostre mamme io mi sono accorto di questa cosa qui chiunque abbia più o meno la mia età è nato diciamo è nato negli anni 80 primi anni 70 cioè fine degli anni 70 prima 80 ha una mamma che ascoltava o l'uno o l'altro difficilmente si ascoltavano tutti e due sto parlando di Morandi e Celentano ah era così o stavi di qua o stavi di là spesso e volentieri con anche famiglie divise porto un esempio della mia famiglia dove ho una mamma che era fan super sfregatata fan di Gianni Morandi una fan di quelle che abbiamo portato spesso e volentieri ai concerti di Gianni anzi una portata ce l'andava lei ciao ragazzi vado al concerto mi dice mia mamma quindi insomma mia mamma è una grandissima fan di Gianni Morandi dall'altra una zia la sorella appunto di questa mamma che invece grande fan di Adirano Celentano quindi un'anima più rock da una parte è più magari popolare diciamo non saprei come definirla più non lo so sicuramente più rock quello di Celentano quello è poco ma sicuro e quindi insomma spesso e volentieri famiglie distrutte da questa diatriba sul fatto di chi fosse meglio tra Celentano e Morandi e continua così ancora oggi se pensate le varie diatribe tra se è meglio Svere e Basta o chissà che altro a me piace Mahmood io sono più di Gali insomma quelle cose lì la musica è anche quello non è solo musica ma è anche viverla la musica quando la ascolti l'abbiamo citato abbiamo parlato di Adriano Celentano e quindi non possiamo che ascoltare appunto Adriano Celentano come uno dei pezzi più forti e più iconici della sua carriera sto parlando di Azzurro 8 e 54 minuti ed è arrivata la fine di questa puntata di Good Morning Milano ultima puntata della settimana Thanks God It's Friday e come ho fatto a dimenticare tra le varie diatribe musicali dei vari decenni quella degli anni 80 gli Spandau o i Duran forse sono dimenticata perché ho troppo piccolo effettivamente per ricordarmela quella e se ci pensate c'è sempre un decennio nella vita di tutti noi che magari non viviamo appieno perché è quello di quando siamo piccoli quindi non riusciamo neanche a percepire a capire certe cose so molte cose degli anni 70 e 60 ne so tante negli anni 90 negli anni 80 magari un po' il vuoto perché insomma ero lì ragazzi c'è voglio da giocare fare la mia vita da bambino dopo di noi Ambrogio Curti con Senti Questa che ad esempio ci manda un whatsapp riliriente l'ultima canzone che abbiamo mandato per farvi capire cosa potrebbe dirvi durante una puntata di Senti Questa ad esempio che Celentano quando incise Azzurro aveva il raffreddore e un attento ascolto lo rivela Azzurro che poi è la canzone una delle canzoni preferite di Ieri B che so essere già stata cioè è in lacrime ogni ascolto di Azzurro non si sa perché ma ogni volta che ascolta Azzurro finisce in lacrime e invece voi vi prego trattenete le lacrime che so che sono lì pronte a partire perché sapete che non potete ascoltarci nei prossimi due giorni perché è il weekend anzi nei prossimi tre giorni perché c'è anche Pasquetta ma noi torniamo qui martedì con voi in diretta qui su Cristal Radio con Good Morning Milano buona Pasqua a tutti buona festa buona Pasquetta mangiate e bevetene tutti così ti diceva ecco ma fatelo davvero divertitevi buona Pasqua ciao